salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi porto sul canale delle batterie doppia a lo so state dicendo a madre batteria doppia tutto qua no perché loro non sono le solite batterie doppia che normalmente potete acquistare magari su amazon soprattutto del marchio quello più famoso quello nero oro no loro hanno delle performance delle caratteristiche nettamente ma ripeto nettamente superiori loro sono le batterie ricaricabili x star l4 vi arrivano all'interno di questa confezione se comprate il kit con il caricatore abbiamo le quattro batterie doppia e il caricatore con i quattro led che ci indicano lo stato di ricarica questo ci permette di andare a ricaricare le quattro batterie con un tempo veramente veloce in base ovviamente a quanto sono scariche le batterie magari una più carica una meno scarica cioè tutto questo comunque il tempo varia dalle due ore e mezza alle sei ore e per ricaricare quattro batterie doppia vi assicuro che è un tempo veramente molto molto rapido per caricare le normalissime batterie ricaricabili doppia che possiamo acquistare normalmente ci vogliono molte molte più ore queste batterie hanno delle performance veramente pazzesche tra poco ve le racconto nel dettaglio e ve le spiego è possibile acquistare anche l'alimentatore per andare a ricaricare il suo caricatore è un normale alimentatore usb se vogliamo però quick charge 3 e un cavo usb usb type c e questo dà la massima performance ha il suo caricabatterie ovviamente se mettete un alimentatore diciamo con caratteristiche non di questo tipo ci metteranno di più queste batterie a essere caricate ma con lui avete la massima resa perché comunque come vedete sfrutta la tecnologia quick charger 3.0 però è possibile anche utilizzare un normalissimo ricaricatore per cellulare allora questi dispositivi ragazzi li potete acquistare direttamente su xstar vi lascio qua sotto il link in descrizione con anche cupo a sconto se riesco ad ottenerli ma adesso direi di andare a vedere cosa sono le caratteristiche principali di queste batterie rispetto a qualsiasi altra batterie allora loro sono sembrano delle normalissime doppie a infatti lo sono dal punto di vista estetico ma sono delle batterie agli ioni di litio quelle che normalmente acquistiamo teniamo sempre come termine di paragone le più famose nero oro che potete acquistare su amazon che invece sono al nickel cos'è la differenza principale ovviamente la struttura chimica ma questa struttura chimica permette a queste batterie di avere una resa delle performance nettamente superiori partiamo dal voltaggio sì perché le batterie ricaricabili nero oro sono 1,2 volte mentre queste xstar l4 sono 1,5 volte quindi capite che già da questo punto di vista abbiamo molte più performance dopodiché abbiamo 2500 mini ampere che sono gli stessi mini ampere che abbiamo anche nelle altre batterie nero oro ma queste sono capaci di erogare come vedete più di 4 watt ora contro i 2 watt ora delle batterie nero oro quindi è una differenza pazzesca questo cosa vuol dire che abbiamo molta più durata della batteria a livello proprio di energia erogata la erogherà per più tempo e soprattutto maggior stabilità dell'energia erogata praticamente dal punto di vista delle caratteristiche e della resa un sacco di vantaggi in più ma cos'è un altro vantaggio delle batterie agli ioni di litio che a differenza delle altre batterie soprattutto quelle al nickel e anche la ricarica loro si ricaricano con più facilità anche se vanno sotto una determinata soglia di utilizzo riescono ad essere ricaricate mentre batteria al nickel se vanno sotto una determinata soglia faranno fatica a ricaricarsi o non si ricaricheranno neanche mai più e in più se le mettiamo via cariche loro hanno una dispersione dell'energia che è quasi zero praticamente irrilevante mentre le batterie al nickel se le lasciamo lì inutilizzate e cariche andranno a perdere energia quindi un altro vantaggio e in più le batterie agli ioni di litio hanno anche il vantaggio che non hanno una memoria di ricarica quindi potremo ricaricarle quando sono a metà quando sono scariche tutte quando sono scariche poco non avendo questa memoria riusciranno sempre ad utilizzare la loro capacità massima per quanto riguarda l'accumulo di energia e poi questi diciamo 1,5 volte e questi wattora erogati ci permettono di avere praticamente il doppio della durata di una batteria per quanto riguarda l'utilizzo cioè se io vado inserire questa batteria all'interno di un dispositivo che utilizza batterie stilo supponiamo magari anche una macchinina radiocomandata di un bambino e metto dentro quattro batterie stilo nero oro la durata sarà di sparo a caso 10 minuti metto queste batterie all'interno della stessa macchina e utilizzo la stessa macchina nello stesso modo per lo stesso tempo avrò circa il doppio della durata per quanto riguarda l'utilizzo di gioco cioè veramente pazzesco io le utilizzo tantissimo nel controller Xbox perché comunque come sapete l'isbox ha i controller con batterie non ricaricabili e mettendo dentro queste batterie nel controller ragazzi riesco a utilizzare un controller bluetooth come quello dell'isbox per un sacco di ore stessa potrebbe essere da per andare inserire un altro controller che non ha batterie ricaricabili e questo ci permette veramente con queste caratteristiche di utilizzare per un sacco di tempo poi le utilizzo anche all'interno della mia tastiera bluetooth qua ci vanno dentro delle batterie stilo e io ovviamente ho inserito le mie la4 di x star perché comunque mi permettono di avere la tastiera sempre disponibile per un sacco di ore quindi ragazzi queste batterie sono veramente qualcosa di incredibile ovviamente poi ognuno trova l'utilizzo più specifico alle sue esigenze perché possiamo inserire per esempio anche in un mouse possiamo inserire le magari all'interno di un appunto un giocattolo per bambini che normalmente consumano un sacco di batterie soprattutto magari macchinine radiocomandate tutti questi dispositivi che normalmente hanno bisogno di tanta energia e tante batterie con loro si allunga il tempo di utilizzo e soprattutto le si ricarica in maniera veloce e non vanno mai a perdere la loro capacità se non in un periodo veramente lunghissimo del tempo poi ognuno ovviamente trova il suo utilizzo più specifico per le sue esigenze io vi ho dato solo qualche idea poi sapete voi di vostro dove state utilizzando delle batterie doppia e avete bisogno di tanta energia e di una durata lunga per l'utilizzo e soprattutto una batteria che ha un consumo omogeneo e anche sotto un assorbimento importante riesce a gestire a dare energia continua e omogenea al dispositivo che state utilizzando quindi ragazzi spero che questo mio video in cui vi ho portato questo prodottino veramente interessante a me veramente affascinato tantissimo per le sue caratteristiche se poi confrontato appunto alle normali batterie ricaricabili che possiamo acquistare nei negozi o su Amazon che sono poi magari quelle del marchio come vi ho detto di riferimento quello nero oro quello più gettonato sicuramente quando si vanno ad acquistare delle batterie di qualità ma sicuramente quella qualità è nettamente surclassata a livello di prestazione durata e resistenza cioè praticamente da tutto da queste x star l4 vi lascio qua sotto il link in descrizione perché comunque loro costano solo le batterie quattro batterie doppia costano 24 euro quattro batterie doppia mentre andiamo a spendere circa 32 euro se andiamo ad acquistare il kit con le quattro batterie e anche il suo caricatore che gli permette appunto di avere una ricarica veloce e rapida perché poi magari ce ne servono di più di batterie si magari il primo acquisto lo facciamo con il caricatore che ovviamente andremo a sfruttare con le quattro batterie incluse insieme al caricatore e poi nel caso ci dovessero servire altre quattro batterie potremmo acquistare separatamente solo le quattro batterie e non la versione con il caricatore perché comunque utilizzeremo solo questo o se no potremmo acquistare il kit completo due volte in base appunto a quello che dobbiamo fare in base alla necessità di ricarica delle batterie che abbiamo a nostra disposizione quindi in base all'utilizzo in base a tutto questo uno può decidere cosa fare quindi ragazzi spero che questo mio video riguardante queste batterie l4 della xstar agli ioni di litio ricaricabili con performance incredibili vi sia piaciuto l'abbiate trovato utile ed interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novitante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione come questa un tutorial o una novità ciao e al prossimo video